Cristian Palladino, attore, regista, devo specificare attore teatrale o un attore e basta? In realtà sono qui in veste di conduttore di teatro sociale. Qual è la differenza tra un attore e un conduttore di teatro? Allora, il conduttore di teatro è colui che lavora attraverso gli strumenti del teatro con dei gruppi di persone in diversi contesti. E poi scopriremo quali sono questi contesti. Tu hai detto una parola magica che è teatro sociale, che è la tua più grande passione. Aiutaci a capire che cos'è il teatro sociale. Posso partire da una differenza che ovviamente sto delineando io in questo momento tra teatro e teatro sociale. Dipende dagli obiettivi che noi ci poniamo quando ci apprestiamo a lavorare in questo campo. Se io, ad esempio, ho come obiettivo il divenire un attore professionista, lo strumento teatrale lo utilizzerò per acquisire delle hard skills, delle competenze professionistiche che appunto andranno a professionalizzarmi in quel campo. Ad esempio, tutto il lavoro sul corpo mi servirà per acquisire una presenza scenica atta al lavoro sul palcoscenico. Mi servirà la voce, un lavoro sulla voce, sulla dizione, per lavorare. Tutto perché queste cose che tu stai raccontando sono cose che io immagino accadano comunque nel teatro in generale. O poi c'è una differenza? Allora, se ho come obiettivo il diventare l'attore professionista o regista o qualsiasi lavoro all'interno del campo del teatro, l'obiettivo è professionalizzarmi. I diversi campi, ad esempio nel campo attoriale, possono essere quelli che ho descritto in precedenza. Quindi l'obiettivo mio è quello di realizzare e di acquisire quelle competenze per trasformare il tutto nel mio lavoro, in una competenza lavorativa. Allora, questa è già una fase tecnica. Troppo difficile da capire se non partiamo da alcuni passaggi precedenti. Allora, insieme a te noi proveremo ad entrare in questo magico mondo del teatro. Intanto voglio chiederti per te che cos'è il teatro. Il teatro in questa mia fase storica per me è un'opportunità. Un'opportunità sia per me, per il sottoscritto, e sia per le persone che nel loro immaginario magari non hanno mai pensato di trovarsi all'interno di un setting teatrale. E sto parlando di gente che non ha come obiettivo quello di diventare un professionista nel teatro, ma gente che vive o abita dei luoghi, in questo caso quelli che si chiamano luoghi sociali, contesti sociali, che si trovano a far parte di un gruppo lavorativo, di un gruppo all'interno del quale si è deciso di intervenire con lo strumento teatrale. Cioè il teatro come cura possiamo dire anche in qualche modo? Come prendersi cura, perché è un po' diverso, perché se noi parliamo del teatro come cura andiamo in un campo che è quello sanitario. Ci sono esperienze, ci sono anche scuole di formazione in teatro, terapia, ci sono anche dei dibattiti. Pensavo più alla cura dell'animo. Sì, io preferisco parlare di prendersi cura, il prendersi cura sia dell'altro e sia di se stessi. Ad esempio attraverso il teatro, attraverso lo strumento teatrale e i diversi moduli che ho descritto in precedenza possono aiutarmi a prendermi cura e quindi a sviluppare delle competenze trasversali che o magari non le so utilizzare oppure non le so riconoscere. Il teatro, attraverso i suoi metodi, può darmi questa possibilità, questa opportunità. Per questo per me il teatro è un'opportunità sia per chi conduce, soprattutto forse per chi conduce, e sia per i partecipanti. Ovviamente il teatro poi per antonomasia ci può anche portare a una questione di relazionalità, quindi nel senso il relazionarsi con una persona. Il teatro di per sé è relazione, però in un contesto educativo o riabilitativo il relazionarsi non è poi così scontato. Quindi magari ci saranno delle metodologie attraverso ovviamente sempre lo strumento teatrale che avranno l'obiettivo di lavorare sulla relazione, quindi la capacità di comunicazione sul piano interpersonale. Ed è per questo, secondo questa logica, che ti sei dedicato anche nei tuoi laboratori, nel tuo percorso, anche a tematiche complesse, importanti. Hai diretto organizzato e diretto dei laboratori sull'immigrazione, piuttosto che sui temi del lavoro. Adesso c'è un percorso dedicato agli anziani, prossimo step, teatro nelle carceri. Cioè, come dire, seguendo la logica di teatro, come cura, come prendersi cura che decidi di rivolgerti poi a questi segmenti che sono, come dire, certamente più svantaggiati? Allora, io farei una differenza tra la tematica e il contesto. Ad esempio, io posso lavorare sulla tematica dell'immigrazione in un contesto che è diverso da quello in cui magari in un luogo abitano persone che sono costrette ad emigrare da altri paesi. Invece, la tematica dell'immigrazione magari io la posso affrontare, come abbiamo già fatto, con un gruppo di adolescenti oppure un gruppo misto, ricordo, era un gruppo di gente adulta italiana che ha voluto fare questa esperienza. Si è andato anche in un cassa, in un centro d'accoglienza. Sì, lì è nel contesto. Quindi il lavoro, l'intervento che è totalmente diverso, sia come metodologia, sia anche come tematica da affrontare. Ovviamente abbiamo due aspetti, anche due visioni diverse, due prospettive diverse rispetto a lavorare con persone italiane sull'immigrazione. Quindi vai a spulciare, vai a stimolare dei pensieri, delle azioni sulla tematica. Quindi come vede questo determinato gruppo l'immigrato? Mentre nell'immigrazione vai a lavorare con, nel campo, nel contesto del cassa, vai a lavorare con gente che realmente è immigrata. Quindi anche la metodologia è totalmente differente. Perché lì devi tener conto, ovviamente, con un bellissimo lavoro di equip. Non lavoro da solo. Ovviamente in un centro di accoglienza si avrà bisogno all'occorrenza di un mediatore culturale, di uno psicologo. E lì costruire insieme l'intervento da mettere in campo. Diventa poi anche quasi una forma di liberazione, no? Questo avvicinarsi al teatro in questo modo. Tu, tra l'altro, nei tuoi ultimi lavori hai sperimentato una tecnica, ti sei accostato ad una tecnica, che devo leggerla perché io non sono un'esperta di teatro, è il teatro forum, ovvero un metodo che prende origini dal famoso metodo del teatro dell'oppresso, il teatro dell'oppresso creato dal regista brasiliano Boal, che ha lo scopo proprio di fornire strumenti di cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro che si trovino in situazioni di oppressione. Quindi anche qui ritorna comunque il tema del teatro un po' come terapia, se vogliamo. E in questo metodo del teatro forum si mette in scena una scena teatrale, appunto, che rappresenta una situazione oppressiva, e gli spettatori, che diventano spettatori, perché sono chiamati ad intervenire, a cercare soluzioni sostituendosi agli attori. Non credo di averla spiegata bene, spiegala meglio tu. No, no, benissimo. Il teatro forum è una metodologia del teatro dell'oppresso. Il teatro dell'oppresso è un metodo teatrale inventato dal brasiliano Augusto Boal, che prende spunto dalla pedagogia degli oppressi di Freire. è una pedagogia che vede il mondo, ma anche le situazioni di apprendimento, come una sorta di opposizione tra due elementi, che è l'oppresso e l'oppressore. Quindi siamo nell'ambito dell'oppressione. E la domanda è come si può fare a coscientizzare sia l'oppresso sia l'oppressore per cambiare lo status quo, per cambiare la realtà, con un metodo innovativo di trasformazione. E Boal inserisce lo strumento teatrale in questo campo della pedagogia. Ci sono tantissimi metodi del teatro dell'oppresso, c'è il teatro immagine, il teatro invisibile, il teatro forum appunto, e sono metodologie che venivano utilizzate all'interno dei contesti in cui l'oppressione era forte. Ad esempio, loro lavoravano nelle fabbriche, si lavorava nelle periferie, si lavorava in tutti questi contesti dove appunto la condizione di oppressione era ben visibile, evidente. Quindi che cosa succede? Succede che attraverso il teatro noi possiamo avere la possibilità di svegliare, risvegliare gli animi inserendo anche il metodo razionale. Quindi abbiamo la possibilità di riflettere su alcune tematiche, che ovviamente, tematiche calde, che in quel contesto, in quel preciso momento è il mondo che si vive in quel momento. Ad esempio, se sono in una fabbrica dove c'è un problema tra il potere e il lavoratore, il teatro in questo senso veniva utilizzato per trovare anche delle soluzioni. Quindi come dire, una risposta concreta, non stiamo parlando di messa in scena, no? Parliamo di soluzioni concrete anche, che paradossalmente possono venire dal mondo dell'arte in qualche modo. Facciamo dei passi indietro, voglio sapere com'è nata la tua passione per il teatro, se è un fuoco che hai iniziato ad avvertire da bambino, se invece è arrivata più tardi. In realtà il teatro io l'ho incontrato qui a San Giovanni, grazie a una compagnia teatrale amatoriale che faceva teatro in vernacolo. Sono stato, mi sa era in questo periodo, sono stato, diciamo, braccato da un mio amico, mi ha chiesto se volevo partecipare, ho partecipato, ho lavorato con loro per tre anni, abbiamo messo in scena tre spettacoli e mi piaceva quest'idea di diventare attore. Dopodiché mi sono spostato di città, andando in Abruzzo, a Pescara, per studiare, per studiare altro. Ho avuto la possibilità di frequentare un laboratorio teatrale. Ovviamente entro in questo contesto ed ero convinto di avere subito un copione, avere una parte. Invece la prima cosa che facciamo, ci mettiamo in cerchio, ci togliamo le scarpe e iniziamo a giocare. Quasi una terapia. Sì, iniziamo a giocare, io ero estasiato, ho detto ma che cos'è, ma non è questo il teatro, quando avremo un copione. E poi là invece ho compreso che la formazione teatrale parte proprio dal gioco, parte proprio da lì. Quindi il mettersi in gioco, il fare delle cose che ti fanno tornare bambini con persone che magari tu non hai mai visto in vita tua. È una ricerca intima, no? Sì, attraverso il gioco, attraverso il gioco si va a lavorare su se stessi, su se stessi, sui propri limiti, sulle proprie potenzialità. Ecco, il teatro per me è lo scoprire, è lo stimolare le proprie potenzialità. È il riconoscimento dei propri limiti e il tentativo di superarli. Quindi per questo poi ho deciso di continuare questa mia strada, diciamo, sul piano teatrale, però ovviamente non volevo che diventasse il mio lavoro, non l'avevo mai pensato. E invece è così? Oggi è così, no? Oggi sì, stiamo tentando di concretizzarlo. E a proposito di studio, però, tu prima hai fatto appunto un accenno, ti sei spostato in un'altra città per studiare. Tu sei laureato in filosofia. Ma c'è qualcosa che unisce la filosofia al teatro? Sì, sì. Allora, se noi pensiamo che forse il primo che ha cercato di sistemare, diciamo, fare una sistemazione di alcuni concetti legati alla tragedia greca, era proprio un filosofo, Aristotele, che attraverso la poetica ha cercato di ordinare degli elementi chiave per la buona costruzione di una tragedia. E quindi, sì, filosofia e teatro, secondo il mio parere, vanno di pari passo. Insieme. Ma non soltanto Aristotele, se andiamo nella storia della filosofia, ma anche del teatro, molti critici, molti pensatori sono stati dei filosofi, ma anche maestri di teatro loro stessi, per me, sono anche dei filosofi. Se io penso a Carmelo Bene. Hai dei modelli, hai dei punti di riferimento in questo? Punti di riferimento sì, ma tutti. Carmelo Bene è uno di quelli? Sì, sì, sul piano teorico, ovviamente teorico, filosofico, teatrale, ci ho fatto una tesi su una parte del suo pensiero teatrale e filosofico. Altri modelli possono essere tutti coloro che incontro e ho incontrato finora. Cioè, non per forza sono modelli i grandi maestri, che lo sono ovviamente oggettivamente, ma tutte le persone con cui ho la possibilità di lavorare, di formarmi, per me sono dei modelli. Inizi, appunto, poi ad appassionarti, inizi la tua carriera nel mondo del teatro. Nel 2014 fondi l'associazione Oschenè, oltre la scena. Posso chiederti perché oltre la scena, perché si chiama così? Allora, Oschenè è un termine che io ho preso da Carmelo Bene. Lui è stato, diciamo, il primo a coniare questo termine perché univa la O ovviamente in maniera molto arbitraria. Non so se è corretta questa forma in greco. Unisce la O e Schenè, Schenè che significa scena, e O è senza, quindi senza scena, oltre la scena. Ovviamente il mio significato è differente rispetto a quello di Carmelo Bene, perché oltre la scena è tutto il discorso che abbiamo fatto finora. Cioè, nel senso, non mi interessa proporre una formazione teatrale con l'obiettivo di far divenire coloro che partecipano dei professionisti del teatro, almeno come mio primo obiettivo, ma è quello di utilizzare lo strumento teatrale per lavorare su quelle che si chiamano le competenze trasversali. Quindi le competenze, quelle qualità che ognuno di noi ha, magari non sa riconoscere o sviluppare. Quindi oltre la scena, perché magari quello che voglio dal teatro, quello che a me è servito, è raggiungere dei miei obiettivi. Obiettivi che possono servirmi anche all'infuori del contesto teatrale. Ad esempio, se io lavoro con degli adolescenti e mi accorgo che la maggior parte non riesce a tenere lo sguardo oppure non riesce ad esprimere un concetto perché magari l'ansia stoppa la voce. Abbiamo lì la possibilità di aiutare queste persone attraverso ovviamente un lavoro di vocalità oppure un lavoro di improvvisazione. Abbiamo la possibilità di offrire loro l'opportunità di superare questo limite. E quindi per me il teatro può essere utile sotto questo punto di vista. Dare una mano agli altri perché con me il teatro ha fatto questo. Quindi non il teatro con luci e palcoscenico, ma come dire, quello che c'è dietro la scena. Oltre la scena il teatro, appunto, lo spiegavi prima, come strumento per prendersi cura, per superare magari dei limiti, per risolvere delle incertezze. Anche perché dietro un personaggio c'è un attore. E dietro un attore c'è una persona. E c'è un vissuto. E anche il personaggio è condito dal vissuto dell'attore, di una persona. Ascolta, che cos'è che non ti stanca mai, che non ti ha stancato mai di questo mestiere? Allora, in realtà io sono all'inizio, cioè nel senso è da qualche anno che cerco di concretizzare, di far diventare questa mia passione un mestiere. Quindi se devo dire che c'è qualcosa che mi fa stancare, no, perché c'è l'entusiasmo. Non mi stanca mai perché sono sempre a contatto, quando ho la possibilità, con gente sempre diversa. E quindi anche in contesti sempre diversi. Ovviamente dietro a un progetto di teatro sociale, di laboratorio di teatro sociale, c'è tanto studio, nel senso che se io oggi devo andare, devo progettare un laboratorio di teatro all'interno di un contesto che può essere un centro di salute mentale, ovviamente io ho bisogno di studiare quel determinato contesto, le persone che ci abitano, ovviamente in maniera generale, per costruire un progetto ad hoc. Quindi sono stimolato nell'apprendere sempre cose nuove. Entri in tanti mondi. Adesso il percorso che hai intrapreso è rivolto agli anziani, se non sbaglio, no? Allora, ho lavorato ultimamente con adolescenti. Sì, abbiamo un gruppo di anziani e tra un po' avremo l'occasione di lavorare all'interno della casa circondariale di Foggia, grazie a un progetto messo a disposizione dal centro di volontariato di Foggia, in concomitanza con la casa circondariale, e abbiamo partecipato in partenariato con due associazioni, Terre senza confini e Oschene oltre la scena, e inizieremo a febbraio. Quindi partirà fra pochissimo questo nuovo percorso. Allora, tanti auguri per questa nuova avventura. Non so se si può dire tanti auguri, siete scaramantici in teatro. No, io non sono scaramantici. Lo stesso va benissimo. Grazie per averci raccontato la tua passione, la tua esperienza. Grazie mille per essere stato qui. Grazie a te. Grazie a te.